carissimi pace e buona giornata di benedica grazie a dio per questo nuovo giorno che gli ci concede oggi è 2 febbraio e vi invito a leggere insieme a me due versi che si trovano nella parola di dio il primo è molto noto in ebrei capitolo 11 verso 1 dove lo scrittore da una definizione meravigliosa della fede e gli afferma che la fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazioni di realtà che non si vedono l'altro verso in seconda corinzia capitolo 5 verso 7 dove l'apostolo afferma camminiamo per fede e non per visione ci sono alcuni cristiani che hanno una concezione singolare del rapporto con dio nel senso che essi pensano che dio sia presente nella loro vita solo quando vedono o avvertono o particolari sensazioni quando ci sono dei miracoli quando ci sono delle manifestazioni potenti della gloria di dio eccetera eccetera quando tutte queste cose che si possono avvertire emotivamente o che si possono vedere con i propri occhi scemano vengono meno allora si pensano che dio sia lontano che dio si sia dimenticato che dio non sia all'opera eccetera eccetera e in alcune circostanze questi cristiani cominciano a mettere in dubbio non solo la propria salvezza ma delle volte addirittura anche l'esistenza di dio stesso ma il signore ci aiuti ci aiuti perché la nostra vita è qualcosa che deve essere fondata non su ciò che avvertiamo non su ciò che vediamo ma sulla fede perché la salvezza è per grazia mediante la fede perché noi abbiamo riposto la nostra fiducia in dio e possiamo anche non vedere ma dobbiamo continuare a credere perché se noi crediamo allora vedremo e quello che gesù disse alle due sorelle marta e maria che stavano piangendo sulla tomba del loro fratello morto e che dissero al signore o se tu fossi stato qui signore mio fratello non sarebbe morto ma il suo gli disse se tu credi tu vedrai la gloria di dio vedete come la scrittura lo spirito santo inverte il senso delle cose noi per poter credere vogliamo vedere la bibbia invece ci insegna che per vedere noi dobbiamo credere allora amico che magari mi stai ascoltando non pensare che dio non esiste semplicemente perché non vedi dei miracoli perché dio compie miracoli semplicemente se tu che non riesci a realizzare questo nella tua vita il fatto che tu oggi possa aprire gli occhi è un miracolo di dio il fatto che tu oggi possa sostentare la tua vita è un miracolo del signore il fatto che magari tu possa avere un lavoro anche quello è un dono un miracolo che viene da parte di dio e se non ce l'hai dio è potente a poter provvedere anche a questa tua necessità dio ci aiuti a poter vedere i tanti miracoli che gli compie nella nostra vita giorno dopo giorno se sei in perfetta salute è un miracolo di dio e non devi aspettare che ci sia la guarigione per poter gridare al miracolo perché la salute che gli oggi ti sta dando è qualcosa che viene dall'alto dio ci aiuti ad avere una sensibilità spirituale affinché possiamo realizzare che ogni buon dono viene dall'alto dio ci aiuti a realizzare che il nostro rapporto che il signore non può essere basato su ciò che vediamo ma sulla fede profonda nella sua santa e benedetta parola per questo l'apostolo paolo diceva camminiamo per fede e non per visione sì la fede ci spinge a credere anche quando ci sembra che dio non sia presente è un po quello che ci insegna il libro di ester un libro straordinario dove il nome di dio non viene neanche menzionato neanche una volta un libro dove sembra che dio si sia dimenticato di mardocheo del suo popolo un libro dove vediamo che amanna sempre realizzare senza particolare difficoltà i suoi progetti e la domanda che ci poniamo fin quando non arriviamo alla conclusione del libro ma dov'è dio e che senso ha potrebbe dire qualcuno mettere questo libro nella scrittura forse per mettere in dubbio la fede di qualcuno ma alla fine quando vediamo l'intervento del signore all'ultimo momento quando egli opera in modo tale che mardocheo il popolo di israele vengono liberati e aman venga a subire la giusta condanna per quello che ha fatto non possiamo che affermare ma dio era presente eravamo noi che non riuscivamo a scorgere l'opera sua sì dio ha guidato ogni cosa affinché la sua gloria si manifestasse fratello sorella che stai vivendo un momento di difficoltà un momento in cui pensi che dio non ci sia o si sia dimenticato di te dio è l'opera e dio porterà avanti l'opera sua se tu crederai allora vedrai se tu continuerai a riporre la tua fiducia in lui tu vedrai cose straordinarie sì perché la nostra vita è una vita che si basa sulla fede che è certezza di ciò che si spera e dimostrazione di ciò che non si vede e inoltre e concludo ricordiamoci che noi non crediamo in dio perché vogliamo vedere cose gloriose su questa terra noi credendo sappiamo che le possiamo vedere ciò che ci interessa veramente è la vita eterna quello che noi potremo gustare nell'eternità nella gerusalemme celeste alla presenza di dio perciò non preoccupiamoci se su questa terra dobbiamo subire delle volte nei momenti di travaglio o di afflizione è dura sì certo ma se nel travaglio andiamo al signore noi troveremo riposo e realizzeremo che la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande smisurato peso eterno di gloria perciò da oggi non vogliamo più dubitare ma vogliamo camminare per fede credendo che la parola di dio è verità e che il signore è fedele che la pace e la grazia e l'amore e la presenza di dio sia con tutti quanti noi pace del signore grazie a tutti grazie a tutti